Prepariamo la frolla. Frolla pronta, adesso la metto in frigo. Eccola qua, che meraviglia! Prepariamo la crema, quindi zucchero e ricotta e facciamo lavorare bene. Con scorza di arancia e di limone. Aggiungiamo le uova. Aggiungiamo i canditi, ho scelto l'arancia. Adesso vado ad aggiungere il grano, cotto in precedenza, così. E azioniamo. Adesso aggiungiamo gli albumi e mescoliamo dal basso verso l'alto, così. Ho rivestito la mia formina, adesso vado ad aggiungere il ripieno. E poi facciamo le striscioline per decorazione, così. E adesso in forno. E ecco le pronte. Partiere time. Gran lavoro, ma che soddisfazione. Ricetta sul blog Cucina con Frolina. Grazie.